Il sindaco di Vibonati, Franco Brusco, è stato ricoverato alcuni giorni presso l'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute, ma la giunta comunale, riunitasi ieri, ha deciso di sostituirlo temporaneamente con la dottoressa Dalia De Filippo, che riveste la carica di vicesindaco. Difficile dire i tempi che ci vorranno per il suo completo recupero, si ipotizza anche un intervento chirurgico. 77 anni il prossimo 28 febbraio, Franco Brusco è stato eletto sindaco di Vibonati il 5 giugno del 2016. Alle spalle una lunga carriera politica. Dall'88 al 94 è stato due volte sindaco del comune del Golfo di Policastro. In questo periodo è stato anche assessore provinciale. A Palazzo Sant'Agostino è tornato come consigliere nel 1999. L'anno seguente, con il CDU, è stato consigliere regionale. È stato eletto anche alla Camera dei Deputati nel 2001 e riconfermato nel 2006, questa volta con Forza Italia. Nel 2010 si candida per un seggio alla regione Campania, ma non viene eletto. Subentrerà al primo dei non eletti che si dimetterà per un seggio alla Camera dei Deputati. Alle ultime amministrative la decisione di ricandidarsi alla carica di sindaco del suo comune.